Sto cercando un avvocato! È per difendere un innocente! Si chiama Josette. Qual è l'accusa? Omicidio. Mostrami il disegno. Josette, hai detto? Quanti anni ha? Undici anni. Ha sentito la ringa del caso Grondin? Sarà un successo. Ed è giunta alla conclusione che ero l'uomo giusto. Colpevole! Il compito di un avvocato è far assolvere il suo cliente, non farlo condannare. Una bambina di undici anni, ingiustamente accusata. La soluzione sarà una formalità. Entri l'imputata! È in una gabbia? Questo è illegale. Povera bambina. Mi hai assunto per difendere una capra. Una capra? Sì, ma è stata una capra. Beh. Gli altri non volevano. Perché soltanto un asino accetterebbe di difendere una capra! E così tu non sapevi che l'imputata fosse una capra? Non sapevo. Ma se poco fa sembravi piuttosto sorpreso. La tua espressione era... Non l'ho fatto. Scutevi anche la testa, ti si muoveva tutta la parrucca. Sento che sono vicino alla verità. Cosa ha visto? Ha visto tutto! Tutto! Non è solo una capra. È la mia migliore amica, è mia sorella, la mia confidente. Oh sì, ma certo. Ora dirà che l'ha partorita. Radio Italia, radio ufficiale.